La Feder Lazio ha messo a punto un manifesto con una serie di proposte per cambiare marcia alla Regione Lazio da sottoporre ai candidati alla Presidenza. Una giornata difficile perché abbiamo dovuto portare al Presidente tutta una serie di problemi che vanno dall'occupazione, vanno alla realizzazione di infrastrutture. Quindi abbiamo avuto degli interventi che hanno veramente fatto vedere a 360 gradi le problematiche del Lazio. Ma abbiamo sentito oggi moltissime proposte, molte proposte che ora stanno sull'agenda del Presidente Zingheretti. Il candidato del PD è stato il primo ad ascoltare le piccole e medie imprese del Lazio. Costruendo una visione comune noi ce la possiamo fare, però non dando risposte parcellizzate a ognuno quello che si vuol far sentire dire che è un cancro della cattiva politica, ma dicendo a tutti le stesse cose per costruire tutti lo stesso progetto. Nei prossimi giorni seguiranno altri incontri con i candidati degli altri schieramenti. Poi la parola aspetterà agli elettori. Gli imprenditori sono fiduciosi che si potrà ripartire. Grazie. Grazie. Grazie.